Ciao ragazzi in questo nuovo video, signori eccoci qua Allora vado subito in parco giochi ma prima di andare anzi guardiamo un attimo il negozio oggetti Perché finalmente Epic Games ha preso in considerazione il concept di un ragazzino Che praticamente desiderava di vedere la skin del pollo Ecco perché le piume ha rifugio ritirato su quella torre di legno Un pollo eccolo qui, 40.000 più voti per questo ragazzino che ha postato il concept Ovvero ha fatto dei disegni sul foglio e l'hanno riportato in game Quindi GG Epic Games Ma andiamo un attimo al lobby ragazzi, andiamo un attimo a rapidi rischiose Perché voglio vedere quel famoso proiettore che sta lì a Risky Reels Ok? In tanti mi avete segnalato Dragon Guard che rapide ci sta Ralph Ralph spacca tutto, dovrebbe essere questo il nome del film animato, del cartone animato Che arriverà al cinema penso nel gennaio del 2019 Ralph spacca tutto questo film cartone e dovrebbe esserci lì a rapide sul grande schermo Lui, il protagonista mi sembra che passa ogni tot a fare un saluto lì sullo schermo proiettato Andiamo insieme ragazzi, voglio un attimo vedere Tra l'altro ho già controllato anche ieri ma non passava niente Non vorrei che dovevo aspettare un po' più di tempo Andiamo ragazzi a vedere insieme E l'altra cosa, ragazzuoli, season 7 con la neve confirmed Ragazzi, i leakers hanno trovato qualcosa di nuovo per la season 7 Hanno trovato raga la neve nella mappa Ci sono già i suoni di quando si atterra, di quando si cammina, di quando si corre sulla neve eccetera eccetera Ok? Li ho già sentiti ma per problemi di copyright e altro Ho detto non li metto nel video Come sempre ragazzi sapete benissimo il perché Ma li ho sentiti Quindi signori preparatevi a arrivare alla season 7 Anche perché durante la live della patch 6.30 Vi ho fatto vedere raga che ci sta Quella schermata dove c'è il pacchetto, quel bundle Con il personaggio di ghiaccio Adesso mi viene in mente il nome In cui c'è lui che sta salendo su un monte Su una montagna Praticamente di ghiaccio E a proposito di ghiaccio Sembra che avremo anche una trappola di ghiaccio in arrivo Con la season 7 Sempre tra i file che hanno trovato i leakers Ragazzi qua c'è stato il proiettore Adesso Non voglio un attimo cambiare schermata Anzi faccio subito boom ok Abbiamo lì il proiettore Vediamo se mi esce oppure no Mi uscirà oppure no Perché qualcuno di voi mi ha inviato la foto O addirittura il video su instagram Dove praticamente Ralph Passa Vediamo se Faccio il taglio Al massimo faccio il taglio Let's go Ecco Eccolo Oh yes Mi sa che passa ogni 5 minuti ragazzi Fate conto che dall'ultimo Quando vi ho detto che faccio il taglio Sono passati tipo 5 minuti Ok Quindi è tutto vero Fortnite andrà a pubblicizzare Il film cartone in arrivo Ralph spacca tutto Interessante Aspettiamoci prossimamente Forse anche con la prossima patch Delle zone della mappa innevate Perché nel file Nel file sorgente ci stanno anche lì Delle zone che indicano della neve Vi farò sapere ragazzuoli Mi raccomando Vediamo anche questo crossover Perché forse sarà la stessa cosa Magari ci sarà un evento limitato Come hanno fatto con il guanto di Thanos Vi ricordate? Ragazzi Vi farò sapere Tenetevi aggiornati Ci vediamo stasera in live Ok Tra l'altro prossimamente Vi porterò un video Riguardo a come era Il Natale Dell'anno scorso Su Fortnite Ciao